Sono Paolo e Laura, siamo nel centro di Clinique Medical Beauty di Cinecittà e qui facciamo medicina e chirurgia estetica. Il dogma del bellezza uguale sofferenza è sfatato da un pezzo. Attualmente bellezza non significa dolore, tant'è vero che i nostri prodotti contengono una molecola antidolorifica che rende praticamente ampiamente dollerabile qualunque trattamento. I trattamenti sono molteplici, tutti minimamente invasivi, vanno dal filler labbra, filler zicomi, utilizzo di filler e botox per riprofilare la mandibola, nonché liposuzioni, mini liposuzioni da ambulatorio con fibre laser, liposuzione minimamente invasiva con fibre laser. Queste fibre laser cosa comportano? Che riducono moltissimo i tempi di recupero e riducono anche il costo. Sono la dottoressa De Dova Xenia e un trattamento laser assistito. Si può avere un lifting a tutti gli effetti senza però necessariamente sottoporsi a un intervento chirurgico. Un uomo qui può fare tutti gli interventi che può fare anche una donna, non escluso le labbra quando sono troppo sottili, una mandibola più mascolina, quindi più zagomata, nonché la liposuzione va per la maggiore, per togliere la cosiddetta pancetta. Adesso per riposare il viso, noi cosa facciamo? Cerchiamo di risolvere questo problema utilizzando la molecola botox, che rilasserà i muscoli dove si formano prevalentemente le rughe, dando quell'effetto ringiovanimento più o meno naturale. Sono la dottoressa Ilaria Ilari, sono specializzata in medicina estetica al Master di Torvergata. Mi occupo principalmente di filler, di acido ialuronico e tossina botulina. È un trattamento che dura pochissimi minuti, che si può fare tranquillamente anche durante una pausa caffè. Il nostro Paolo è rilassato, sufficientemente rilassato. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale.